Eccoci qua, buona giornata a tutti. Una riflessione, qualche riflessione in merito a quello che è accaduto ieri, perché poi oggettivamente è la ragione per la quale anche oggi il dibattito è sostanzialmente orientato a dare commenti sull'autorizzazione per mandare Matteo Salvini davanti a un tribunale. Ne sto leggendo di tutti i colori, io stesso sono stato poche ore fa a un dibattito televisivo con Francesco Verderami, la Serracchiani e c'era anche la Ghisleri, la sondaggista collegata, che dava un'interpretazione, dava comunque una lettura di questa vicenda, come viene vista dagli italiani. Ecco, pare che la gente abbia capito, ma come non poteva essere, perché il nostro è un popolo di buonsenso, tranne i faziosi, che si è trattato e si tratta di un processo essenzialmente politico. Bisogna però mettere a fuoco alcune cose, perché poi magari anche gli aspetti tecnici non è male conoscerli, perché qualcuno mi ha chiesto e qualcuno continua anche a domandare, ma perché la Lega non ha partecipato alla votazione? Perché la Lega non si è messa contro per impedire che questi potessero mandare Matteo Salvini davanti al tribunale di Catania? La questione sta anche nei regolamenti e sta anche nelle regole, che ci impediscono di poter fare un ragionamento che guardi nel merito nel momento in cui la posizione essenzialmente è politica. A cosa mi riferisco? Innanzitutto, l'attività fatta ieri dal Senato non entra nel merito delle questioni, ovvero se è stato compiuto o non è stato compiuto un reato, nel caso specifico di sequestro di persone, che non esiste, ma non esiste per definizione. Però mettiamo pure, in qualsiasi altra circostanza, quello non è il tribunale che va a guardare quello che viene accusato, le ragioni per le quali l'accusato viene chiamato in causa. Ma il Senato, come la Camera, ovvero il Parlamento, si deve esprimere in merito al fatto che ci sia stato un interesse pubblico preeminente, ovvero che chi ha compiuto una tale azione l'abbia fatto, facendo ovviamente la propria azione nell'interesse degli italiani. Il commento ovviamente politico più semplice è quello di dire ovvio, perché era il Ministro degli Interni, è ovvio che c'è un mandato politico. Però chi dà questo giudizio lo dà un'assemblea che è fatta ovviamente dai componenti del Senato, in questo caso da parte politica. E allora che cosa accade? Accade che nel momento in cui ti trovi ad essere opposizione rispetto alla maggioranza di governo, questa opposizione, come nel caso specifico del provvedimento che riguarda Nave Gregoretti, l'opposizione perde e la maggioranza vince. Perché? E mi riferisco al regolamento del Senato che leggiamo assieme e che vi commento. L'articolo 135 bis prevede che sulle richieste di autorizzazione di un membro della Camera, ovvero del Senato, si procede se la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano formulate proposte intese a negarla, l'assemblea non procede a votazioni intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. In caso diverso, sono poste in votazione le proposte di riniego dell'autorizzazione, che si intendono respinte qualora non conseguano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. E questo è il regolamento del Senato. Che cosa significa? Che la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, nel caso specifico del Senato, è di 160. Nel momento in cui sei all'opposizione è ovvio che quella maggioranza non c'è, perché è la stessa maggioranza di governo. Che cosa significa? In maniera molto semplice, che se l'accusato è di maggioranza, ovvero al governo, avrà sempre una maggioranza che lo difende. Se l'accusato si trova nei ranghi dell'opposizione, avrà sempre contro la posizione maggioritaria di governo. E questo succede, sto leggendo Franco Volomi, che questo succede perché è una stortura che cambia le maggioranze a sostegno del governo durante la stessa legislatura. Sì, assolutamente d'accordo. Tant'è che noi l'abbiamo detto, nel momento in cui siamo usciti dal governo, la cosa normale sarebbe stata quella di ritornare al voto. Però aggiungo anche, Franco Colombo, non funziona il meccanismo per cui chi succede manda a processo chi l'ha preceduto. Questo vale che si tratti del sindaco, che si tratti dell'amministratore di condominio, che si tratti, peggio ancora, ovviamente delle più alte istituzioni del governo e dello Stato. Ma ve lo vedete, un paese nel quale chi opera nella sua funzione di governo deve temere che nel momento in cui alle elezioni dovesse perdere, o nel caso specifico, senza neanche passare dalle elezioni, si trovi in opposizione, chi va in maggioranza e prende in mano il coltello, glielo mette alla gola. Questo poteva accadere in tempi medievali, ma non certamente può accadere oggi. Ma ci troviamo invece ancora di fronte a questo tipo di situazioni. Per cui la maggioranza di governo, con un'azione e una scelta totalmente e squisitamente politica, esprime il suo risentimento mandando alla sbarra l'oppositore. Questo fa parte di una tradizione di certa sinistra. E apro una parentesi, che è inutile che tirino in ballo anche la questione della magistratura. Non è un problema tra la magistratura e il Parlamento, è un problema tra la politica e se stessa. Perché nel momento in cui la politica non riesce più a distinguere l'interesse pubblico, ma utilizza il ricorso alla magistratura per potersi fare giustizia privata, andando come fossimo nel Medioevo a colpire l'avversario, qui siamo all'interno veramente di una barbarie giuridica. Detto questo, c'è anche da mettere in evidenza una cosa molto semplice, che essendo stato il caso essenzialmente sovrapponibile al caso della nave 18, in quel caso il Partito Democratico votò contro, ovviamente rispetto alla richiesta di diniego dell'autorizzazione, l'hanno fatto ancora oggi, mentre i 5 Stelle esprimono tutto il loro risentimento. Come diceva qualcuno, in maniera molto efficace, la politica non si può fare con i sentimenti, ma certamente tanto meno si può fare con il risentimento. Questo è un governo che nasce per opporsi a Matteo Salvini, non per dare risposte agli italiani, e lo si è visto anche nella votazione di ieri. Debo dire, per chi avrà avuto modo, o per chi vuole approfondire, di andarsi ad ascoltare l'intervento di Casini. E se vi dico io ad andare ad ascoltare l'intervento di Casini, vuol dire che c'è proprio qualcosa di interessante da sentire. La distanza politica è molta, in qualche caso addirittura abissale, essendo lui ovviamente un democristiano, eletto addirittura a Bologna, nella Rossa Bologna, con i voti dei vecchi comunisti. Però ha fatto un ragionamento essenzialmente istituzionale. Attenzione, perché nel momento in cui la politica utilizza strumentalmente il ricorso al Tribunale per andare a vincere quello che non riesce a fare nell'urna, ecco, questo mette a repentaglio la stessa tenuta democratica del Paese. Detto questo, che la sinistra voglia fare fuori e chi non l'appoggia, come sta scrivendo Renza Barsi, lo sappiamo. Dobbiamo essere forti, dobbiamo stare tutti assieme a Matteo Salvini, fargli sentire col lavoro costante di tutti i giorni, chi è nei comuni, chi è nel proprio lavoro professionale, ma chi lo fa in una sezione della Lega, non mollare la presa, perché questo è quello che loro vogliono, cercare di fiaccare Matteo e cercare di spaventare chi si iscrive, chi sostiene la Lega. Non glielo possiamo consentire, altrimenti sarebbe non una sconfitta per la Lega, sarebbe una sconfitta per la stessa democrazia. Già oggi abbiamo un governo che è stato rimesso assieme, ripeto, non con l'obiettivo di dare risposte ai cittadini, ma di impedire di tornare al voto, altrimenti avrebbe vinto la Lega. Figurarsi se ci possiamo permettere di piegarci rispetto a questo tipo di ricatto. Gli auguriamo ovviamente che, girando la ruota, non si trovino loro nella stessa condizione, anche se una cosa la possiamo garantire. Noi siamo realmente democratici, non nel nome, come lo dice il Partito Democratico, che poi è democratico che non c'è niente. Quindi noi tuteliamo sempre le opposizioni e le minoranze. Tengano conto che però la ruota gira. Detto questo, mi appresto a partire e fra poche ore saremo a Catania, poi a Enna, poi domani ancora a Catania, poi venerdì si rientra. Voglio fare un passaggio anche da Malpensa per capire la situazione di Air Italy, perché questa è un'altra sciagura che è capitata. Addirittura, pensate, apro una parentesi. Sì, hai ragione Neva, senza Salvini non hanno più ragione per far politica, non esiste più neanche la loro ragione di esistere, però noi gli diamo la ragione e ci prendiamo anche le nostre ragioni. Quindi combattere per dare la libertà alla gente, come abbiamo cercato di dare e far capire anche in Emilia, apro una parentesi. Saluto i nostri amici Emiliano Romagnoli ricordandogli che come è stato in Umbria l'appuntamento con la loro liberazione regionale è rinviato alla prossima scadenza, ma certamente non molleremo. Tornando a noi, voglio fare un passaggio anche a Malpensa per capire e vedere da vicino la situazione di Air Italy e i lavoratori. Tenete conto che siamo all'ennesimo paradosso, perché dal giorno all'altro ci siamo trovati con l'Italia, sappiamo la condizione in cui si trova. Air Italy chiude e quindi addirittura una regione come la Sardegna che non ha più collegamenti. E non stiamo parlando di andare in vacanza, stiamo parlando di garantire a quella popolazione di potersi recare sul territorio nazionale o anche uscire dall'isola utilizzando l'aereo. Quindi un collegamento fondamentale. Queste sono le cose di cui vorremmo che si occupasse il governo, le risposte da dare, come quella di andare a dare risposta purtroppo ai nostri lavoratori che perdono il posto e le nostre imprese che si trovano in difficoltà. Perché quest'anno anche con l'aggravante del virus cinese, del coronavirus, purtroppo l'economia rallenterà e rallenterà parecchio. Grazie a tutti per l'attenzione. Un saluto. Ci vediamo nei prossimi giorni. Sabato rientro anche a Tradate e andrò a vedere in comune il progetto della nuova piazza del comune. Mi dicono che sono state fatte delle buone proposte. Lo vedremo. Anzi, lo vedremo certamente assieme. Saluti a tutti. Grazie.